La redazione di Ued incoraggia Valentina Dallari, commosso Mariano, ti voglio bene. A distanza di diverse settimane dal momento in cui è stato registrato, la redazione di Uomini e Donne ha trasmesso un video omaggio dedicato a Valentina Dallari per incoraggiarla in vista dell'ingresso in una clinica di riabilitazione anticipato a fanpage.it. Un filmato ha ripercorso alcune parti del suo trono, mostrando i sorrisi di questa giovane coraggiosa che sta affrontando un momento tanto delicato. Commosso Mariano Catanzaro. Sapete che ci ho messo il cuore dal primo giorno in cui sono venuto qua, soprattutto all'interno del trono di Valentina. Mi sono arrivate alcune foto e ho scoperto che ha un problema alimentare grave, so che sta affrontando un percorso all'interno di una clinica specializzata. Voglio farle un forte in bocca al lupo e dirle che le voglio bene. Valentina sta affrontando la sua riabilitazione. Valentina aveva parlato con fanpage.it della necessità di ricorrere all'aiuto di un team di specialisti per risolvere i suoi disturbi alimentari. Ci avevano anticipato che sarebbe entrata in una clinica all'interno della quale si sarebbero occupati del suo recupero. Con coraggio, e senza che nulla fesse dovuto al pubblico, ha ammesso il suo problema e raccontato le sue paure. Il pubblico le ha mostrato finalmente la solidarietà che le era dovuta, e continua a sostenerla. L'ingresso in clinica della Dallari risale a un mese fa circa. Il fidanzato Alessandro De Luca confermò a fanpage.it l'avvenuto ingresso in clinica circa un mese fa, specificando che la compagna sarebbe riuscita a completare il suo percorso in circa un mese, per poi tornare alla normalità. A sostenerla ci sono la sua famiglia e il compagno che hanno insistito affinché Valentina affrontasse i suoi problemi e, finalmente, li risolvesse. Ciao!